Arriva lo sponsor e ti dice Questo è il mio prodotto, ti va di pubblicizzarlo Oppure no Facciamo una curata selezione Non facciamo nulla che non sia food Perché se no secondo me Perdi credibilità A me arrivano richieste di qualsiasi cosa Dicci un po' le più strane Le candele, mi posso fare una pubblicità Una candela, ma che c'entra con la lucina Cucini, cucini con la candela Al posto del fornello C'era fritta C'era fritta, mi posso fare